Si parte da una considerazione, cioè che negli ultimi anni il centro-sinistra di Canusa di Puglia non ha avuto alcun tipo di rappresentanza né in regione né in provincia. Il desiderio di invertire la rotta per dare anche alle città più piccole del territorio la giusta visibilità all'interno delle istituzioni viene espresso dalla sezione locale del Partito Democratico, al lavoro per proporre una candidatura di rilievo alle elezioni regionali della prossima primavera. Troppo presto per fare nomi, dicono dalla sede di Via Sicilia, dove hanno iniziato a sondare la disponibilità degli esponenti di maggiore esperienza all'interno del partito, come l'ultimo candidato sindaco del PD Antonio Imbrici o come la consigliere comunale Nadia Landolfi. Se dovesse prevalere la richiesta di un volto giovane, allora potrebbero salire le quotazioni dell'ex assessore comunale Marco Silvestri. L'appello del segretario cittadino Nicola Dariano è ad una candidatura rappresentativa delle istanze provenienti dai comuni più piccoli della provincia. Noi riteniamo che la candidatura che possa meglio rappresentare il nostro territorio è una candidatura ricercata fra la gente che sta sul territorio, che vive il territorio, che conosce meglio le situazioni del territorio e possa nello stesso tempo, nel momento in cui, speriamo venga eletta, rappresentare al meglio le problematiche di questi territori che sono territori purtroppo in grossissima difficoltà. La grave crisi economica che abbiamo avuto ha colpito il meridione più delle altre zone d'Italia, ma ha colpito soprattutto le città più piccole, le cittadine più piccole distanti dal mare, nell'entroterra delle regioni. Questo ci porta ad avere, come dire, necessità di trovare soluzioni idonee. In vista delle prossime elezioni regionali è quasi certa la ricandidatura nel PD dei due consiglieri barlettani Caracciolo e Mennea. Altri due nomi potrebbero venire dalla città di Trani, mentre si cerca una sintesi nel territorio di Andria. Ma una volta garantita la giusta rappresentatività ai comuni capoluogo, spiega il segretario PD della BAT Pasquale Di Fazio, potrebbe guadagnare consenso proprio alla proposta di Canusa. Siamo in una fase di audit dei circoli, è una fase politica in cui noi come segreteria provinciale gireremo i circoli, i dieci circoli della BAT, proprio perché la formulazione della lista nasce da una condivisione che poi sarà riportata sia a livello di direzione provinciale che di assemblea provinciale, ricordando che poi la ratifica evidentemente è anche di tipo regionale. Io penso che questa candidatura possa avere un senso nella misura in cui può rappresentare bene anche i piccoli territori, ma è naturalmente una proposta che poi entra in una discussione globale. Però io penso che Canusa, se posso permettermi di dire qualcosa in più rispetto al mio ruolo, probabilmente meriti una candidatura rispetto ad altre opportunità che non hanno visto esercitare ruoli di prima immagine. È evidente che bisogna fare un lavoro anche in questa città molto importante perché poi il consenso sia adeguato a quella che è la proposta. Siamo all'inizio di questo percorso, ripeto, che si va ad incardinare un percorso fatto tra le dieci città della BAT.